Musica Oggi la mobilità sta cambiando, ma chi acquista una vettura ha bisogno di una vettura polivalente ed ecco che Peugeot offre nella sua gamma di SUV che vanno dalla 2008, 2008, 2008 e il nuovo Rift un veicolo particolare, si tratta del Traveller Il Traveller è un veicolo a nove posti, ma esiste anche una versione veramente speciale, il Traveller d'Angel Il veicolo ha quattro ruote motrici, tanta tecnologia per trarsi d'impaccio in qualsiasi condizione di terreno Però Peugeot al concetto di SUV c'era arrivata già 30 anni or sono con le 504 allestite 4x4 da D'Angel E poi diventeranno 505 come questo esemplare che abbiamo Solo 500 esemplari prodotti e ormai pochissimi sono ritornati in Europa Il concetto era semplice, l'ammiraglia, allora era la 504 o la 505 familiare montata su uno chassis più alto da terra con le quattro ruote sempre in presa Oggi con Peugeot Traveller d'Angel è possibile raggiungere le località di montagna sia d'inverno che d'estate o le spiagge più isolate con la famiglia e con gli amici Peugeot Traveller 4x4 by D'Angel è disponibile in due versioni Traction Control e Traction Control Plus Entrambe abbinate al motore blu HDI da 150 CV E' proposta in tre diverse lunghezze La Compat da 4,61 m La Standard da 4,96 m E infine la Long da 5,31 m Protagonista di questo video Lo schema d'Angel è basato su un albero longitudinale che trasmette la motricità al ponte posteriore con differenziale tramite giunto viscoso E può essere considerato come un vero proprio 4x4 on demand che è possibile comandare tramite un selettore posto alla sinistra del volante Le modalità di guida sono tre La prima è quella denominata Eco e con essa la motricità è affidata alle sole ruote anteriori La seconda è la Auto 4WD In questo caso, qualora si verifichi una perdita di trazione il giunto viscoso provvede a trasferire progressivamente la coppia motrice al retrotreno senza nessun intervento da parte del guidatore La terza modalità è definita Hard Lock e consente bloccaggio del differenziale posteriore in caso di condizioni estreme Peugeot Traveler 4x4 d'Angel è disponibile in tre allestimenti Business, Allure e Active E se si presentassero delle condizioni stradali difficili non c'è problema basta agire sul selettore e Traveler d'Angel diventa un vero 4x4 sicuramente in grado di riportarli a casa A proposo di Alistair